Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. In questo episodio preveremo a giocare per la prima volta con April. Andiamo! Reporting live, la nostra reporter. E dovevamo affrontare un nuovo livello. Io nel frattempo avevo fatto un pochettino di pratica con Donatello per portarlo un po' su livello, ma ora tocca all'episodio 9. Crisi a Coney Island. Andiamo, sfide 0 su 3, collezionabili 0 su 2. Crisi a Coney Island, episodio 9. Luogo Coney Island, giustamente. Uh, lo stanno portando via, stanno portando via il corpo. Eh vabbè, non sparatemi le ventuose mostri. Cioè sono una ragazza dopo tutto, eh. Cioè le ventuose non mi sembra proprio il massimo. Tanto lei picchia col microfono, bellissimo. Allora questo mi sa che lo posso usare per colpire qualcuno, vero? No, bravi, andate su. Aia. Mi hanno già completato una sfida, tra l'altro. Attenzione a non farci colpire troppo dalle fionde qui, dalle ventose. Capitan Ventosa, lui! Capitan Ventosa! Ecco fatto. Sbeffeggiamoli un po'. Un po', esattamente così. E picchiamoli. Vamos! Abbiamo un cestino. Ah! Che botta! Quali sono le sfide? Diamo un'occhiata, eh. Sconfiggi 6 nemici usando pizza potente. Non so che mossa sia. Esegui 5 lanci violenti. Ok, questo invece so che mossa siano. Vai! Tutti fuori. Vabbè, allora questa cosa è però un po' stronzia, eh. Vai, tutti fuori. Usiamo questi lanci violenti. Facciamoli. Via! No, così. Fuori. Ecco fatto. Sfida completata. Questo voleva prendermi. E io invece gli scivolo addosso. Dietro il carretto mi sa che c'è qualcosa. Infatti. La scutina è salvati. E abbiamo anche distrutto 200 oggetti per l'achievement. Oh, questo è un cazzato. Allora, poi si incastra giù. Tra l'altro si proteggono anche questi. Qual è la mossa speciale di April? Usiamola. Vabbè, ok, classica. Però si muove anche in avanti, ottimo. Vai. Sbeffeggiamolo. Oh, oh. Che botte queste. Allora, volevo andare a distruggere il cestino io, eh. Ecco qua. No, distruggi il cestino. Il cestino. Uh, pizza. Via tutti. Boom. Eh... Metti in guarda. Metti in guardia. Eh? Non riesco a colpirlo, eh. Vamos. Eccolo. Il corpo. Vai. Distruggiamo tutto e tutti. C'era... Favol pizza questa. Favol pizza questa. Vai. Era con questa che dovevamo uccidere 5 nemici. Mi sa che non ce l'abbiamo fatta. Era proprio la sfida. Oh, invece sì. Ce l'abbiamo fatta. Boom. madonna le ventose sono arrivati il nuovo capitano ventosa e gli altri suoi amici. Ma l'ha colpito. E si spara pure. E si spara pure. Stronzo. Eccoci qua. Abbiamo iconi. Che possiamo tra l'altro usare come arma, se non sbaglio. Tirandoli addosso. Vengono colpiti. Vabbè. Però tu sei stronzo, eh. Guarda, guarda. Ecco fatto. E questi devi evitarli. Devi colpirli bene così, eh. Sono bravi, sti ninja. Uh, insetto. Insetto disgustoso. Ottimo. Eccolo. Quori tutti. Sì, fuori pure questi robottini di merda. Via. Fuori. Grazie. Ahia, che botta. E sta dando del filo da torcere, questo, eh. Fuori dallo schermo. Via. Qui cosa c'è? Pizza. Ottimo. Ahia, che botta, però. Cioè, appena ha preso la pizza. Va bene. Vai, questi due uccidiamoli così. Ottimo. Nivello di potenza extra raggiunto. Questi tra l'altro somigliano un casino a Deadpool. Eccolo, si nota comunque la potenza un po' inferiore di April rispetto agli altri personaggi. Uh, questi cosa sono? Voglio attivarli. Boss? Fai una scoperta palloncinica. Per scoprire un palloncino. Ah, così? Ok. Vinci il mini gioco con i Island. Ah, tra l'altro li posso far scoppiare tutti questi, in teoria. Ok. E c'era solo un premio, immagino, no? Quello che abbiamo preso noi. Però, qui c'è anche qualcosa da distruggere. Dai, non c'è nessun collezionabile lì. Dai, mostri. Ok, distrutto tutto. E allora andiamo avanti. Attenzione. Ahia, che botta. Però che continua a sballottarti in giro. Ecco, un altro di questi. Che devo imparare a combattere meglio. Perché è un casino. In modo. Distrutti tutti. Guarda quanti colpi. Ecco, fatto. Dai, ditemi che c'è una pizza qui. Pizza? No. Porco cane. Devo affrontare il boss con... Devo ho tre vite, eh, però. Metà vita. Leatherhead. Ahia, botta. Vediamo cosa fa come attacco. Continua con questo attacco lui. E allora io faccio così. Uh, bello. Vai, sbeffeggiamolo. Attenzione. Ahia, che botta. Ma fa così per tutta la battaglia questo? Mi sembra un po' eccessivo, eh. Dai, infatti. Torno a farti menare un po'. Aia. Mi sa per ammazzare. Mi ha ammazzato. No, non ancora. Uh. Pizza, grande. Capitava a fagiolo questa pizza. Leatherhead, prendi questo. Aia, che botta. No, lasciami andare. Ok, vai. Sbeffeggiamolo un po'. Così ci carichiamo per la special. Devo solo stare attenti ora. Vai vai, esci pure. Tanto non mi prendi. Haha. Mostro. Attento. Ed ora special. E andiamo giù. O meglio, e vai giù. Leatherhead. Episodio 9, terminato. E loro comunque continuano a portare via questo corpo. Richesta speciale è sbloccata. Ah, udace. È sbloccata una richiesta speciale. Vai, andiamo a vedere cosa... Cosa vuole, cosa vuole in questa richiesta speciale. Prima di tutto. Raccogli tutti gli insetti disgustosi per le rane mutanti. Vediamo quanti ne ho raccolti. Ne mancano tre. Ok. Bene. Anche questo episodio può finire qui. Nel prossimo episodio andremo a fare l'episodio 10. E... Magari, proveremo anche il maestro Splinter. Quindi, ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto. di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Rachel Spear è tutto. Al prossimo video.